Il suo nuovo libro, Ragioniamoci sopra, Dalla pandemia all'autonomia, è detto da Marsilio e con noi il Presidente del Veneto, Luca Zaia. Buonasera Presidente, benvenuto nel nostro studio. Buonasera. Grazie, grazie per l'invito. Grazie a lei, sono commosso. Guardi, tanti... Si commuove per poco allora. Ma non è vero, ho visitato tante volte esponenti della Lega qua, ma sai che io evidentemente non sono attraente. Non mangiamo i bambini come... Eh? Non mangiamo i bambini. Ma adesso che sono vecchio, ormai devi essere bambino. Allora, eccolo qua, Marsilio è l'editore, è uscito il 18 novembre, è un libro molto interessante di cui parleremo a breve, non è un manifesto politico, è un libro che parla di... è un libro molto concreto, come lei, fatto di concretezza, di intenti e che apre a ragionamenti, come dice lei, che dovrebbero essere di tutti necessari, indipendentemente dai propri pensieri, dai propri orientamenti politici. Però prima, se mi permette, volevo proprio parlare dell'attualità, del presente, di come sta accadendo nel nostro paese e anche in particolare nella sua regione con la ripresa del Covid e dei contagi. Lei è stato l'artefice di una battaglia riconosciuta e durissima, la prima e la seconda lei è preoccupato? Ma sì, lo scrivo peraltro anche nel libro, non è ancora finita, siamo in pandemia, la preoccupazione c'è, e c'è anche perché c'è una recrudescenza del contagio, aumentano i contagiati. Ovviamente lo scenario è uno scenario nuovo, questo virus ci ha abituati a cambiamenti di scenario, lo scenario di oggi è uno scenario sicuramente di contagiati, noi ne abbiamo circa 1.500-2.000 al giorno, ma poi l'impatto ospedaliero con il ricovero è di circa 400 persone, delle quali 71 oggi per l'appunto in terapia intensiva. Com'è cambiato lo scenario? Che quei 71 sono rappresentati dell'80% da persone non vaccinate. Lo scenario è cambiato perché l'anno scorso senza vaccini, con 2.000 persone contagiate al giorno, noi avevamo quasi 2.000 persone in ospedale. Quindi oggi è gestibile la situazione degli ospedali con questi numeri, non si sa che cosa succederebbe se continuasse da crescere. Beh, non si sa cosa accadrebbe, ma di fatto oggi lo è questa gestione, è innegabile che il vaccino abbia creato un grande muro alla diffusione del contagio e anche comunque ad avere quelle evidenze cliniche che poi ti portano in ospedale. Però è pur vero che se noi non andiamo a dialogare, comunque intaccare quella parte dei cittadini che ancora non ha deciso di vaccinarsi, rischiamo di perdere la partita. Anche perché lei poi, insomma, la Slovenia così vicina, l'Austria così vicina, ecco lei adotterebbe quali misure? Lei ha detto che sono contrario all'obbligo vaccinale, non per altro, ma perché lei lo vede impraticabile. Ma si sa, si fa tanto parlare oggi di obbligo vaccinale, ma se qualcuno mi spiegasse per filo e per segno come poi si va a applicare, guardo i dati, io vivo in trincea, quindi io mi devo sempre rimboccare le maniche, perché poi decidono l'obbligo vaccinale ma io poi lo devo applicare. Vedo che abbiamo 11 vaccini obbligatori per i bimbi dal 2015, se non ricordo male, e questo obbligo... Per andare a scuola, certo. Sì, e poi questo obbligo però non è proprio praticato fino in fondo, c'è ancora una parte dei bimbi che non sono vaccinati. In generale nessuna campagna vaccinale arriva fino al 100% di vaccinati, quindi l'obbligo che cos'è? L'accompagnamento coatto alla vaccinazione, l'ammanettamento, l'arresto alla vaccinazione, qualcuno ce lo dica. Al tempo stesso c'è la necessità di non arrivare a un ulteriore danno per la vita delle persone, un danno economico, per esempio alcuni paesi propongono green pass diversi per vaccinati e non vaccinati, questa potrebbe essere una soluzione? Guardi, io immagino noi ci incontreremo lunedì o martedì al massimo con il governo e io penso che la soluzione alla fine, il punto di caduta sarà rappresentato dal fatto primo che non possiamo chiudere. Quindi avendo ancora noi una classificazione per zone, oggi siamo in zona bianca, passeremo la gialla, l'arancione, la rossa, ma già arrivando all'arancione vuol dire chiudere i confini comunali, vuol dire chiudere i ristoranti, vuol dire tutta una serie di misure, chiudere i teatri, i cinema. Per evitare questo vorrà dire che si punterà a questo green pass rafforzato dove i vaccinati potranno comunque ancora accedere, immagino andrà a finire così, presso il ristorante, magari in zona arancione o rossa e chi non è vaccinato avrà delle limitazioni. Quindi due pass diversi, insomma, probabilmente finiremo così. Diciamo un pass poi. Quello che chiede anche il suo collegatoti per la Liguria, per la mia regione, insomma. Ma sa, questa è una questione che condividiamo come Presidenti di Regione, è una grande preoccupazione. Eh certo. Perché noi dobbiamo salvaguardare la salute da un lato e l'economia dall'altro. Lei ha pubblicato venerdì sulla sua pagina Facebook i dati sui contagi a scuola e ha detto che in vento si sono verificati già 3.220 casi dall'inizio dell'anno, ma il dato forse più notevole è che in circa il 30% dei casi, se c'è in una classe un contagiato, si verifica almeno un secondo caso. Poi adesso ci sarà il tema delle vaccinazioni in età pediatrica. Sì, rispetto alle vaccinazioni per gli under 12 ancora non è dato a sapere, perché si vuole l'autorizzazione EMA e poi l'adozione a livello di AIFA a livello nazionale. Quello che noi diciamo che noi siamo un po' gli apripista a livello nazionale per tutte le norme di prevenzione, tanto è vero che governiamo anche il coordinamento della Commissione nazionale. Da noi un bimbo contagiato in aula non significa mandare in quarantena tutta la classe. Insomma c'è tutta una serie di approcci. Di certo da un lato c'è la vaccinazione dei bimbi e dei bambini che dovremmo vedere se verrà autorizzata. Dall'altro però mi lasci dire che in Veneto, ma è un po' una costante nazionale, noi in Veneto su 5 milioni di abitanti abbiamo 656 mila persone che non si sono vaccinate. L'85% dei veneti si è vaccinato. Tra i non vaccinati ci sono coloro che non si possono vaccinare, coloro che hanno paura di vaccinarsi e coloro che non si vaccineranno mai perché per loro è una posizione ideologica. E quindi dobbiamo cercare di dialogare con chi comunque ha paura. Certo. Ma lei scrive infatti nel suo libro a pagina 22, scrive che... Si ricorda tutte le 201 pagine. No, no, l'ho scritta, confesso. Sto copiando. Se in quei giorni del lockdown, dice lei, una casa farmaceutica avesse offerto una qualsiasi pastiglia dicendo che faceva guarire dal Covid, nessuno l'avrebbe rifiutata. Che cosa sia successo dopo non si capisce. Ma siamo passati da una fase nella quale eravamo tutti sui terrazzini a cantare, in una fase nella quale tutti avevamo paura di morire, a una fase nella quale molti sono diventati premi Nobel della farmacologia e della medicina. Perché poi questo è quello che è accaduto. Senta, adesso io dico una cosa che la fa arrabbiare, ma lei lo sa cosa stanno pensando a casa? Cosa stanno pensando? Dicono, ma scusa, ma... Che siamo vaccinati sicuramente. Quello è sicuro. E che siamo anche per i vaccini sicuro. Certo. Cioè, però, scusi, ma penseranno a casa. Ma Zaia l'ha detto Salvini quello che pensa? Perché ancora qualche giorno fa Salvini ha detto le varianti nascono come reazione al vaccino. Siccome lei è un uomo pratico, lo provi a convincere invece di quelle cose che ha scritto, glielo faccia leggere il libro. Ma no, ma ne guardi, ne parliamo spesso. Fra l'altro non è qualche giorno fa, è un bel po' di tempo fa. Settembre, sì. Beh, poi è stata chiarita questo aspetto, c'è un aspetto scientifico. Ne parla spesso con chi? Con lui? Sì. Ah, e dica un po', come stanno le cose? Bene, nel senso che noi abbiamo approvato cinque punti, anche su nostra richiesta, insomma ci siamo confrontati e ne è uscito che comunque i punti sono chiari. Riconoscimento della campagna vaccinale, necessità delle vaccinazioni, gli anticorpi monoclonali, il Green Pass, non è steso Coran Populi, però il Green Pass deve essere assolutamente una misura adottabile e così via. Sa che ho dei disegni dei bambini che hanno fatto lei, prima c'era TV Boy che non la ritratta, ma l'hanno ritratta, insomma non è, ma è super zaia. Questa è una bella soddisfazione. Io la ringrazio perché io mi sono dedicato molto ai bimbi durante il lockdown, nel senso che nelle mie conferenze stampa quotidiane davo sempre ascolto ai bimbi e quindi abbiamo sempre cercato anche di rassicurare i ragazzi, i bimbi e i ragazzi che sono quelli che hanno pagato più caro il conto del lockdown e di tutta questa tragedia. Alla fine si è tradotta in 1300 disegni che vengono, sono già esposti nelle sette città capoluogo del Veneto e poi alla fine nell'ottava comunità che è quella di Voda dove è iniziato tutto. Trovo che il suo libro sia, come dicevo prima, una sorta di elogio del pragmatismo, nel senso che più che voler raccontare un'ideologia, lei ha voluto raccontare la concretezza, che mi pare sia l'elemento che lei dice, insomma, mancare innanzitutto, una volta si diceva che la politica è l'arte del possibile, no? E' appunto, cioè, l'elemento secondo lei centrale, insomma, in questo senso il lavoro che lei fa la obbliga a questo, sin dal primo giorno. Sì, dice bene, diciamo che con le convergenze parallele non si va da nessuna parte. Che meraviglia, però ci fa tornare giovani come una vecchia canzone. Convergenze parallele, poi ve lo spieghiamo un'altra volta per i più giovani, veniamo da un'altra generazione in cui fu inventato in politica il termine convergenze parallele, che è una cosa che ci ha salvato alcune volte in matematica a scuola. Non sai niente, ma come no, sono convergenze parallele. Diciamo che quando non si ha nulla da dire, o peggio ancora, non si è studiato, i dossier, come si dice, bisogna un po' giocare con i termini e magari con i congiuntivi e arricchire le frasi. La verità è che chi vive al fronte, in trincea, noi amministratori, abbiamo la necessità di studiare i dossier e poi di trovare le soluzioni. Non ci sono vie di uscita. Assolutamente. Quali sono stati i maestri o gli insegnamenti più importanti per lei? Sicuramente i miei genitori. Questo è poco, ma sicuro. Lo scrivo anche nel libro, peraltro. e anche perché ognuno di noi ha una formazione che viene dalla famiglia. E poi la comunità, perché ho avuto la fortuna di vivere in una comunità che era una comunità che conosceva e conosce la solidarietà, conosce la condivisione. Quindi l'educazione, dalle mie parti, in quegli anni avveniva nella famiglia e nella comunità. Quindi c'era una sfida un po' per tutti. Lei racconta anche che la sua famiglia sente particolarmente il significato della parola immigrazione, una famiglia semplice di emigrati nel Sud e nel Nord America. Che impressione le fanno le immagini che ha visto prima di quei bambini ammassati ai confini con la Polonia? Guardi, io penso che si debbano aiutare le persone in difficoltà. E questo è fondamentale. Senza se e senza ma. Dopodiché in questo paese molto probabilmente abbiamo pagato moltissimo lo scotto anche del fatto che magari che qualcuno si è comportato male, non sto parlando di quei bimbi. E questo ha pesato moltissimo in tutto quello che è stato il dibattito nazionale. Ma glielo chiedo perché lei definisce l'anti-europeismo nel suo libro come anacronistico. Diciamo che questa immagine, fatichiamo a pensarla, un'immagine dell'Europa, quella che stiamo vedendo. Immagino che non ci sia una persona che non possa che dire che quel filo spinato davanti i bimbi è nel posto sbagliato, anzi il filo spinato non lo dovrebbe più utile. Da nessuna parte, assolutamente. Prima parlavo con Annalisa Cuzzocrea e Marco Travaglio dei 5 Stelle, dicevo appunto, chiedevo se Conte era ancora il leader. Posso chiedere se nel suo partito ci sono due leghe, una di governo, per esempio, che guarda al Partito Popolare Europeo e un'altra invece che guarda alla destra di Orbán addirittura. E lei in quale si riconosce? No, guardi, io direi che c'è una lega. Punto. Dopodiché, un giorno chiesero a Carducci da bimbo. Carducci? Lei ogni volta mi fa questa cosa delle citazioni, anche l'altra volta io non ho studiato, stasera, quindi non mi interroghi. No, ma vedo che ho un sacco di fogli. Sì, ma non c'è scritto. Carducci non ero preparato, ho portato Pascoli, non Carducci. No, dicevo, era per fare una battuta, chiesero a Carducci di fare un tema sulla mamma e lui fece il tema dicendo mia madre, mia madre, punto e basta, no? La lega, la lega, punto e basta. Però è pur vero che è un grande partito, è la fusione di più leghe regionali, le estrazioni culturali, sociali e anche ideologiche sono variegate. E si vedrebbe più col PPE o si vedrebbe più con Orbán? Ma guardi, date le sue radici, la sua storia. Ma guardi, io sinceramente di queste partite europee non mi sono mai occupato. No, ma lei come persona... Di certo io faccio l'amministratore, sono una persona concreta, dopodiché non mi faccia parlare di partite europee perché... Se no andiamo alle convergenze parallele. Se no andiamo alle convergenze parallele. Lei è stato rieletto nel settembre 2020 col 76,8%, un record per i presidenti di regione, praticamente è una monarchia. È una democrazia. Va bene, però è un risultato plebiscitale. Si è parlato a lungo di modello Veneto. Senta, che cos'è questo modello Veneto? Ed è ancora possibile, secondo lei, un federalismo regionale, come lo intende lei? Che cosa significa? Beh, assolutamente sì. Come lei sa, noi siamo andati addirittura al voto per l'autonomia, il 22 ottobre del 2017. E' sostanzialmente dar conto e dare corso a quello che è previsto nella Costituzione, nella nostra carta, nella Costituzione Repubblicana prevede e disegnava già nel 1948 un paese autenticamente federalista. Le evito le citazioni. E quindi posso dirle che noi fondamentalmente stiamo cercando di dare corso a questo. L'autonomia è responsabilità, è una vera assunzione di responsabilità. In un paese nel quale i conti non tornano mai, sarebbe bene allocare le responsabilità su chi gestisce i soldi e soprattutto deve dare risposta ai cittadini. Non è la secessione dei ricchi, non è la mancanza di solidarietà o di sussidiarietà, ma è la volontà di essere pronti ad affrontare un progetto di modernità. E' pur vero però che, per esempio, dal punto di vista sanitario, l'emergenza Covid ha fatto venire molti dubbi sulla gestione, soprattutto nella prima fase, prima del governo Draghi, intendo, sulla gestione regionale della sanità. Nel senso che c'erano regioni in cui si veniva vaccinati, da voi per esempio, in Lombardia non si riusciva nemmeno, sino a che non è arrivata la signora Moratti, non si riusciva nemmeno a prendere il numero del telefono. Cioè, voglio dire, nel Lazio si poteva scegliere addirittura quale vaccino farsi inoculare. E si è invocato, forse, un ripensamento sul titolo quinto. Beh, direi che sarebbe un grande errore, innanzitutto perché anche se ci mettessimo il premio Nobel della medicina a governare la sanità a livello nazionale non riuscirebbe ad essere così efficiente e così performante nell'ultimo miglio nella gestione della sanità come lo siamo noi. E noi lo abbiamo dimostrato. Dopodiché, in Audi diceva, ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Nel senso che questa è la geometria variabile, il titolo quinto prevede questo. Prevede che chi ha diritto di più di autonomia ne chiederà di più, chi ne vuole di meno ne prende di meno. Quindi penso che il modello ci stia, ma di certo non centralizzare. Cioè, il centralismo è medioevo. Noi dobbiamo puntare l'autonomia a quello che è poi il nuovo rinascimento. Senta, questo titolo dove arriva? Ragioniamoci sopra. Questa è una domanda alla quale risposta lei la sa già. Nel senso che la parodia di Crozza... Eccolo lì, vabbè. Diciamo che Crozza prende in giro me. Io ho preso in giro lui con il titolo, quindi ho detto, vabbè, grazie della pubblicità. Ce ne abbiamo due immagini da far vedere? Le faccio far vedere due immagini di Crozza? Prego. No, che la prende in giro, che ci divertiamo insieme. Dai, guardiamolo un attimo. Se non altri, Goria, che Veneto, resta in zona gialla. Sì. Dovemo fare uno sprisi in meno al giorno. Sono superstizioni, ma ragionateci sopra. Mantico deriva da mantice, come il dentico deriva da dentice, cantico viene da cantina. No, no, no. Transatlantico viene da trans che vive in America. Ma no, ma no, ma no. Vabbè, comunque ragionateci sopra. Sì. Camilla, quanto è questo? Sarà mezzo buadì? Ma che... Tre quarti di buadì? Ma che unità di misura è il buadì? Dai. Vabbè, comunque lo appoggiamo qui. Ma è una cosa immaginario. A differenza... Come monito, per non... Dimenticare. Va bene, va bene. Ragionateci sopra. Ci ragioneremo. Ma la cosa più bella... Posso farvi vedere? Sì. La cosa bellissima è... Cos'è? Ragionateci sopra. Questo sei in tavolo e questa è ragionateci sopra. Beh. Vedi? Tutto torna buono. Come diciamo... Come si dice, no? Si fa di necessità virtù. Però mi lasci dire una cosa. Io non ho mai conosciuto Crozza. Non ci ho mai parlato assieme, però devo dire che è riuscito a fare una parodia, fare satira in un momento difficile. Certo. E a darci anche una mano a parlare di temi concreti. Poi uno concreto anche lui, sa? Molto. Io non lo conosco. Molto, molto. Senta, lei dice una cosa molto importante nel suo libro, fra le altre, ma almeno un paio insomma le vorrei citare ancora. Una è un rischio che lei avverte. Quando scrive, ho l'impressione che il sistema paese rischi di implodere. Il dialogo sta lasciando spazio a un'aggressività trasversale. Che cosa vuol dire tutto questo? Ma vuol dire, guardi, lo vediamo anche in queste ore, fra l'altro la mia solidarietà a Selvaggia Luccarelli per quello che è accaduto oggi o ieri. La mia, la sua e quella di tutti noi. Cioè è stata presa a testate per essere andata appunto a fare il proprio lavoro in un corteo, tra l'altro insomma... Sì, fra l'altro neanche riconoscibile. Insomma, per un corteo Novax a Roma. Quindi il clima è sicuramente un clima molto teso e diciamo che il dibattito a volte trascende. Allora ben venga il dibattito, ben venga il manifestare, ben venga a esporre le proprie idee, ben venga anche a portare idee anche che siano estreme. Bisogna rispettare le idee di tutti, però quando l'aggressione è personale decisamente no. Senta, anche qui sa cosa stanno pensando da casa, no? No. Sì, ma gliel'ha detto lei a Salvini della bestia, che da questo punto di vista non è che ha aiutato, diciamo, il dialogo e la serenità. Ma le dico, uscendo da questo tema, in generale parlando delle bestie, la bestia, le bestie... Sì, ma quella in particolare... Dico che quando c'è un'aggressione sul personale non va giustificata, appunto e basta, va condannata senza se e senza ma. E glielo dice uno che comunque è finito e finisce spesso nel tritaccarne di altre bestie. a considerare che sono stati diffusi i video che danno le indicazioni su come arrivare a casa mia, tanto per dire... Sì, però un conto è quando lo fa in modo orrendo una persona, un singolo o un privato è quando lo fa un partito, un'organizzazione, insomma, quella è un'altra cosa. Senta, volevo fare due domande. Una, se lei spera che Draghi prosegua fino alla fine registratura, lo vedrebbe bene al Quirinale? Ma questa è una domanda che mi avranno fatto mille volte ormai. So che io non so... ma sai, non sono originali... No, guardi, febbraio le dirò, per me è un'era glaciale, diversa da questa. Dice, dipende cosa succede da qua, là. Oggettivamente sì. Ma per un amministratore locale lei preferrebbe un governo, diciamo, stabile? Ma guardi, come lei sai, ho sostenuto il fatto che ci fosse un governo Draghi, per quel che può contare il mio sostegno quello di altri colleghi. E' altrettanto vero che poi bisognerà anche capire cosa deciderà di fare il professor Draghi, il presidente Draghi, rispetto a questo. E' pur vero, però, è pur vero che se deciderà di avventurarsi in questa nuova avventura sarà fondamentale che l'elezione sia netta, visto e considerato, che comunque ci va da presidente del Consiglio e rischiamo anche del fatto, se va male tutta questa partita, non avere né presidente della Repubblica, tanto meno quella del Consiglio. Un'ultima frase che volevo sottoporre al nostro pubblico. Lei scrive, oggi come oggi c'è il rischio che l'obiettivo dominante sia formare dei perfetti consumatori piuttosto che dei buoni cittadini. Una frase... Beh, è un dato di fatto. È un dato di fatto, però è una frase molto importante. Il tema è, secondo te, si può tornare indietro? Beh, assolutamente sì, andando avanti, nel senso che io penso che dobbiamo essere più comunità. L'abbiamo vissuto nella prima fase del Covid, lo dico nelle conclusioni del mio libro. La prima fase del Covid ci ha fatto capire che possiamo tornare ad essere comunità. Noi abbiamo vissuto quella sfida come comunità. Ed è quello che ci salva. Ovviamente il cittadino va coinvolto come attore protagonista in un progetto di comunità. Perché dico, viviamo spesso o siamo educati ad essere consumatori non cittadini? Perché poi ne vediamo gli effetti, no? Cioè, una campagna vaccinale, un piano di sanità pubblica rischia di tradursi come una vera e propria coercizione. Ma se lei pensa a chi protesta oggi, molto spesso protestava qualche mese fa contro la mascherina, che non mi sembra una coercizione così grave. Quindi noi dobbiamo fare questo percorso tutti assieme e credere che il mondo non finisce, va avanti e dobbiamo investire sui cittadini. Molto d'accordo. Presidente, un'ultima cosa che riguarda più praticamente i suoi concittadini, ma anche tutti gli italiani che immaginano di venire per esempio in vacanza in Veneto a sciare per le vacanze di Natale. Ci devono venire? Lei è preoccupato per la stagione sciistica? No, guardi, noi siamo già partiti con un progetto che prevede l'acquisto dello ski pass direttamente con il green pass, perché lo ski pass è nominativo. Quindi chi avrà il green pass potrà avere lo ski pass. Perfetto. Io la ringrazio. Grazie a lei. Luca Zaia, ragioniamoci sopra per ragionare di questo e molto altro. Marsilio è l'editore. La prossima volta però ci proviamo di nuovo a spiegare. Torna una volta a trovarmi? Beh, se mi invita sì. Io la invito sempre, così spieghiamo bene bene le convergenze parallele. Vabbè, me la studierò. Anch'io. A presto, grazie. Grazie. Buonasera.